Siamo qui con Mr. Andreozzi della Locomotive Casilina. Grandissima vittoria e grande prestazione. Se le hai passate in svantaggio nel primo tempo, poi si riuscite a ribaltarla anche grazie ai cambi, soprattutto Moretti. Sì, è stata una partita difficile. Il primo appunto sono i complimenti per la squadra avversaria che è venuta in 11. E nonostante questo ci ha fatto soffrire. È una squadra tosta, una squadra che gioca molto sui contrasti, li vince, è una squadra aggressiva, quindi complimenti a loro. Noi siamo stati, secondo me, bravi a non perdere la pazienza. Siamo stati intelligenti a capire che c'era tempo per poter recuperare la partita da quello svantaggio. Abbiamo costruito tanto, obiettivamente. Abbiamo sbagliato anche tanto. Il secondo tempo siamo stati più efficaci, anche per un calo inevitabile della squadra avversaria. È stato bravo Marco Moretti, sono stati bravi anche gli altri che sono subentrati, ma comunque un applauso generale perché la squadra in questo momento sta bene. gioca, prova, ha idee, diciamo che complessivamente facciamo delle prestazioni sempre piuttosto positive. Grazie mister, bocca al lupo per le prossime. Grazie a voi.